Siamo con l'assessore della sanità Coletto, la candidata del centro-sinistra Alessandra Moretti ha picchiato molto duro sul tema della sanità dicendo che l'eccellenza veneta oggi non c'è più, che va ripristinata e che quindi con lei le cose cambieranno in maniera radicale. Allora è vero che il Veneto ha perso molti punti nella qualità del servizio sanitario? Ma forse è rimasta indietro la candidata del PD, farebbe bene a guardare i numeri quelli veri, farebbe bene a fare delle valutazioni riguardo i tagli che arrivano da Roma e nonostante tutto valutare quella che è la sanità vera in Italia, cioè quella veneta, il Veneto ricordo che è regione benchmark, il Veneto ricordo che è in equilibrio di bilancio, il Veneto ricordo che eroga tutti quanti i livelli essenziali di assistenza, a differenza di tante regioni rosse dove questo non accade. Lei dice che in Veneto non sono state tagliate le ulse, andavano ridotte drasticamente. Questo è previsto nel piano socio-sanitario che abbiamo votato nel 2012, lo stiamo attivando e l'idea condivisa nella maggioranza è quello di arrivare proprio a una revisione di quelle che è il numero delle USL e di riportarle in maniera coerente rispetto a quelle che sono le necessità del territorio.